Con l'arrivo dell'estate per le donne aumenta il rischio di cistiti. Quali prodotti utilizzare in questi casi? Sì, l'estate purtroppo per voi signore aumenta il problema delle cistiti. Allora intanto cerchiamo di fare della prevenzione. Ricordiamoci sempre che per le cistiti, per le recrudescenze serve bere tantissima, come vi ricordo, l'avrò detto in mille volte, bisogna bere almeno un litro e mezzo al giorno di acqua per mantenere pulite le vie urinarie. Poi purtroppo per voi donne col caldo, le montandine strette, purtroppo utilizzate troppo spesso i costumi, li tenete bagnati per troppe ore, che non so chi ha la fortuna di stare su una barca, ma anche sulla spiaggia, ogni volta bisognerebbe togliersi il costume bagnato e rimettersi un costume asciutto. Tenendo in conto che bisognerebbe usare solo roba di cotone, ecco, il vostro apparato è sollecito ad essere attaccato dalle cistiti. Evitiamo di prendere subito l'antibiotico. Posso fare anche il nome, il famoso monoril, due busti, ah così uccide tutto e sono a posto. Ricordatevi che uccide proprio tutto e quindi poi bisogna ricostruire tutto, tra l'altro provoca anche dei problemi a livello intestinale perché le due parti sono contigue. Quindi cerchiamo di utilizzare dei prodotti, dei prodotti naturali, molto efficaci a base di una dose, a base di cura, con l'utilizzo di acqua e un po' di attenzione sui costumi e quant'altro, vedrete che non sarete sempre comunque subissate da questo problema. Tenete conto che poi tra l'altro il nostro apparato ordinario è anche aggredito da alcolici, fritti e altri tipi di sostanze. Quindi se in un certo qual modo evitiamo questi problemi e ci stiamo un po' attenti, vedete voi signore, ma anche alcuni signori purtroppo non sarete infastiditi da questo problema.